Sono iniziate oggi a Bitti le operazioni di monitoraggio delle attività commerciali, artigianali e delle abitazioni al fine di redigere un primo report sui danni provocati dall'alluvione del 28 novembre. Tra un paio di giorni, grazie al supporto dato all'amministrazione comunale da una squadra di tecnici della protezione civile e regionale dedicato all'analisi, potranno essere incanalati i primi ristori provenienti dagli oltre 400 mila euro arrivati con le donazioni. Domenica, nel corso del Consiglio Comunale, che si è riunito in Piazza Spruni, era stato approvato il regolamento comunale che stabilisce i criteri per l'assegnazione degli aiuti con priorità riservata alle aziende. Queste attività, spiega una nota dell'amministrazione comunale di Bitti, integreranno quelle già messe in campo dal GAL Barbagia Baronia, che ha predisposto il bando comunale per richiedere i contributi economici e ha avviato i sopralluoghi delle attività produttive. Ieri, grazie alle numerose ispezioni che gli specialisti stanno effettuando nelle abitazioni interessate all'alluvione, il numero delle persone evacuate è sceso da 68 a 40, suddivise in 13 famiglie. Oggi è in programma una riunione del COC, il centro operativo comunale, che unitamente alla struttura del commissariato per l'emergenza Bitti, che fa capo ad Antonio Bellui, direttore della protezione civile regionale, dovrà stirare il cronoprogramma per i prossimi giorni, al fine di avviare il completamento delle operazioni di sgombro dei detriti dal fango, ma anche di ricognizione dei danni e di avvio delle pratiche per gli interventi di ristoro per chi ha subito i danni. Ma si inizierà anche a verificare quali siano i provvedimenti da adottare nel breve e medio periodo per la mitigazione del rischio idrogeologico. Servono infatti interventi strutturali che rendano definitiva la messa in sicurezza del Paese, che nel giro di sette anni ha subito due importanti eventi meteorologici che hanno messo in serio pericolo tutta la comunità. Il Governo si è impegnato a stanziare le risorse necessarie e lo stesso ha fatto la Regione, per Bitti un'occasione storica per uscire una volta per tutte dall'incubo vissuto appena dieci giorni fa. Grazie a tutti.